un minuto con padre pio dai luoghi del convento di san giovanni rotondo ci troviamo in uno dei posti dove padre pio si fermava colloquiale con i suoi figli spirituali con i suoi amici con coloro che venivano qui a fargli compagnia beh oggi siamo qui all'aperto per raccontarvi quanto accadde nel 1919 siamo nel mese di marzo del 1919 il 9 marzo beh quindi possiamo immaginare questo convento il silenzio di questo convento perché non siamo ancora nei giorni e arriveranno a maggio in cui tutto il mondo saprà di questo giovane frate giovane frate che era il direttore di un seminario del seminario serafico qui di san giovanni rotondo c'erano dei piccoli seminaristi ci racconta l'episodio padre alessandro ripabottoni in un libro padre pio ci ruba i figli che è tanto da dire sul titolo ma è un libro straordinario che racconta l'esperienza di questi ragazzi tra cui con il padre spirituale il direttore spirituale padre pio e ci racconta quello che è accaduto il 9 marzo del 1919 beh nove collegiali chiesero la benedizione al loro direttore padre pio non c'era il guardiano in convento chiesero di fare una passeggiata sulla montagna questa camminata puoi rientrare una bella giornata forse c'era anche questo sole beh i ragazzi cominciarono a camminare tra di loro c'era un ragazzo che era nativo di vigo del gargano e disse convinse tutti gli altri ricordando una via un sentiero che portava al suo paese a vigo del gargano e ricordava che in un attimo si poteva andare e tornare da vigo del gargano beh insomma sono tanti chilometri convinse gli altri otto che si misero in cammino verso vigo del gargano arrivò il pomeriggio tramonto il sole padre pio era straziato era impaurito cominciò a pensare di tutto cosa è successo a questi ragazzi lui che aveva la responsabilità di questi nuovi ragazzi un testimone ecco scrive proprio questo proprio per farvi capire quello che era successo ricordo che padre pio era molto addolorato accasciato con le lacrime agli occhi era stato tutta la notte in preghiera davanti a gesù sacramentato e infatti perché i ragazzi non tornarono la sera non c'era neanche il guardiano quindi padre pio si trovò tormentato da una situazione per colpa sua ecco aveva dato questo permesso a questi ragazzi che non erano più rientrati finalmente il giorno dopo padre pio manda fra nicola da rocca bascerana dai carabinieri a fare la denuncia della scomparsa chiedendo poi lo stesso maresciallo informazioni ai alle caserme dei carabinieri vicino e una bella notizia arrivò nel pomeriggio del giorno dopo dal guardiano del convento di vico del gargano che disse che i ragazzi erano stati lì da lui era quindi nel pomeriggio del giorno dopo quindi possiamo immaginare lo strazio che aveva passato che cosa era successo era successo che questi ragazzi incamminandosi arrivata notte si fermarono a pino dove si addormentarono davanti alla chiesa parrocchiale sulle sulle scalinate poi si incamminarono ancora per il bosco trovarono una sorta di approdo da dei benefattori del convento che li accompagnarono al convento li riaccompagnarono al convento di vico morale della favola questa incosciente ragazzata che aveva portato alle lacrime padre pio che cosa successe che questi ragazzi non furono non furono allontanati dal convento benché fossero stati perdonati da padre pio e dallo stesso dallo stesso padre guardiano chi in un modo chi in un altro tutti questi ragazzi abbandonarono il convento non era per loro questa strada in modo spontaneo e soltanto due di essi che non parteciparono a questa camminata divennero padre emilio da matrice e padre federico da macchia valfottore che entrambi ci hanno riportato questo racconto e soprattutto l'angoscia di quei due giorni vissuti in modo straziante da padre più